Completato il quadro delle commissioni permanenti al Comune di Polignano, Presidente della Commissione Cultura è stato eletto il verde Mimolo Melo. Mimolo Melo, sei stato eletto Presidente della Commissione Cultura, come intendi approcciare il lavoro di questa commissione? Ma intanto non facendo il passacarte, perché non è nel mio costume, quindi facendo in modo che sia una commissione propositiva e che si faccia promotrice anche di proposte per quanto riguarda i diversi settori, che sono scuola, cultura, spettacolo, sport e anche ambiente. Si dice che con la cultura ci può essere sviluppo di un paese, perché Polignano è sempre lì e poi non ci riesce mai? Perché non ci ha mai creduto probabilmente, noi ci esaltiamo, ci entusiasmiamo come le quattro giornate del libro possibile, dopodiché manca totalmente una programmazione, devi fare i conti con la ragioneria, ti mancano quattro soldi e fai un passo indietro sulla vicenda del teatro pubblico pugliese, lascia andare quel bel festival che organizzano a Monopoli e anche in altri comuni con Versano Polignano, Sud Est Festival, che è eccezionale per chi ama il cinema, non ha mai pensato di fare un premio letterario e di porre Polignano all'attenzione che gli altri ci riconoscono con la loro presenza. Fatto quanto mai anomalo, la vicepresidenza della Commissione è andata ad un consigliere di opposizione. È stata solo ed esclusivamente una uscita estemporanea da parte di un componente della Commissione, mi sono preoccupato di chiedere ai componenti invece della maggioranza eletti se qualcuno volesse fare questa scelta di fare il vicepresidente, ho visto che nessuno si è proposto come componente della maggioranza. Prossimo lavoro della Commissione? Ho chiesto ai due assessori sport, spettacolo e anche cultura di parteciparvi per non tanto dire la loro sull'estate polignanese che oramai ho visto in giro i dépliand di questa estate, ma di relazionare, se sono contenti, rispetto al bilancio di previsione che hanno già adottato in giunta.